buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo spazio lunedì lunedì è dura ragazzi il lunedì è dura e quindi rendiamola ancora più dura o cerchiamo di renderla comicamente difficile è un articolo che andremo un secondo a riflettere e covettare apparso su today mondo allora dieci anni di carcere al no mask mi sembra giusto no mask ad esempio vi ricordate anche la virologa viola potrebbe essere inserita nel macro insieme dei no mask dato che disse un po di tempo fa che le mascherine sono assolutamente inutili ma servono più o meno a livello pedagogico ma fauci potrebbe entrare nei no mask perché ha detto che ce ne vorrebbero due in un certo periodo altre volte che sono inutili all'interno in spazi chiusi sono utili all'esterno sono inutili però è meglio usarle anche all'esterno insomma a volte mask a volte non mask non lo so ne abbiamo tanti mask non mask e cambiano maschera continuamente cambiano volto cambiano maschera però questo articolo è interessante perché riassume un po una modalità che sta procedendo a sprombattuto con intensità di a mio avviso continua manipolazione della dell'opinione pubblica soprattutto però non è che la manipolano verso un qualcosa non so se avete notato la bellezza dell'ultimo periodo la strategia è il caos totale e io credo che sia come sempre non casuale però credo sia voluta cioè adesso stiamo arrivando proprio poiché il tempo è andato molto lungo è passato un anno marzo aprile maggio giugno un anno qua siamo quasi ad un anno e mezzo le persone iniziano ad essere molto stanche e non funziona più tenere un'unica direzione cioè quella ad esempio di lockdown lockdown chiusura chiusura funziona molto meglio la strategia del caos cioè tutto è il contrario di tutto non riuscirei nemmeno a fare un video spiegandovi tutte le contraddizioni che ho sentito nell'ultima settimana e mezza è impossibile pfizer astra zelica trombosi sino di tutto e uscite di dei vari virologi da salotto si sono scannati fra di loro è impossibile è il caos totale però fra un secondo arrivo a leggervi questo articolo proviamo a vedere il caos totale cosa sta mantenendo comunque come linearità e ordine cosa mantiene beh una cosa che rimane è in un certo sesso il distanziamento sociale il controllo sociale il green pass che sta passando pass passo e questa cosa inquietudine ansia angoscia paura queste non si mollano mai cioè non c'è distensione adesso già paventano a settembre ottobre disastri e il green pass è una cosa bizzarra perché è revocabile cioè l'hanno detto lo stanno dicendo a seconda delle necessità può essere revocato e dovrebbe durare nove mesi al massimo quindi una cosa che non entra in confusione ma funziona continuamente è il controllo la disarticolazione della società a livello di possibilità di incontrarsi di comizi anche il contatto semplice il fluire semplice del pensiero delle idee attraverso un bar lo stadio sarà tutto disarticolato e tutto ciò a mio avviso rientra nell'uso violentissimo e strumentale che hanno fatto e continuano a fare di un'emergenza che poteva essere gestita in maniera totalmente diversa ancora oggi può essere gestita in maniera immensamente diversa dando respiro alle persone permettendo veramente evitando questa destrutturazione sociale però la desiderano questo è il punto le persone nella isolate nella loro paura nella loro confusione alla fine chiedono addirittura più controllo e più isolamento è una realizzazione fantastica bene guardate vedrete in futuro l'unica cosa che manterrà una linearità sarà la disarticolazione sociale l'impossibilità di riunirsi la hanno disarticolato anche il sistema dei social tutte le connessioni dove non dici dove non sei allineato a ciò che oggi deve essere pensato è detto laddove non ti allinei vieni ti sospendono il canale ti chiudono il canale ti danno la piccola punizione la prima volta le punizioni un po più grande la seconda quindi alla fine il risultato se notate coperto da questa confusione di emergenze emergenze e avete visto quanto continuano a ripetere ma sta per arrivare un'altra pandemia i giornali titolano cose assurde in india scoperto un altro virus poi spariscono il giorno dopo ma il livello di inquietudine è tenuto altissimo e in questa confusione tutte le persone sono distratte vengono distratti incanalate verso ma più che altro vengono rinchiuse in un recinto in un recinto psichico e cosa cos'è che va avanti a sprombattuto un progetto economico dei risultati economici che vedremo sempre più rapidamente dei quali non abbiamo potuto parlare osservare occuparci perché siamo stati storditi totalmente da tutta una serie di informazioni e io definisco distorsioni quindi a livello economico vedremo quella progressivo crollo a gradini di cui avevamo parlato a livello geopolitico vedremo l'accentramento lo stiamo già vedendo del potere in sempre nelle mani di sempre meno individui e di corporation sempre più grandi e l'erosione degli aspetti democratici del controllo del territorio e va bene tutte le cose di cui abbiamo parlato tantissimo dieci anni a questo no mask allora titola metti la mascherina per favore perché sono sempre gentili gli altri verso i no mask e lui gli sputa in faccia dieci anni di carcere questo è il titolo ora andiamo a indagare un po il senso di questo articolo vediamo un po gli ha chiesto con gentilezza di indossare correttamente la mascherina protettiva mentre stavano facendo shopping ma lui non l'ha presa bene e ha reagito brutalmente lui non l'ha presa bene e ha reagito brutalmente già questa è una manipolazione dei fatti cioè non scrivono lui preda di un raptus di follia reagisce in maniera violentissima perché altrimenti già capiresti che non è un no mask ma è un pazzo ricordo no mask anche viola a giorni fauci a giorni ne abbiamo sentito poi tutti i colori quindi attenti che dieci anni di galera forse li fate ha inseguito l'uomo nel parcheggio del negozio lo ha buttato a terra gli ha cavato un occhio e per finire come se non bastasse gli ha tossito e sputato in faccia questo è un no mask cioè secondo l'articolo dieci anni il tribunale gli ha dati a un no mask etichetta del soggetto ad esempio potrebbe darli anche a me perché io se se secondo la categoria idiota generata sarei un no mask perché ritengo che in certe situazioni la mascherina è assolutamente inutile ridicola ed è stata come ha detto la buona viola uno strumento di educazione il bastone per tenere le persone educate in un sistema che abbiamo appena descritto ecco quindi tra quest'uomo e me uguale cioè questo toglie un occhio al commesso lo rincorre lo riempie di botte gli toglie un occhio gli sputa e ad un certo punto gli dice tutto ciò scusate è successo negli stati uniti nell'iowa cioè stati uniti 350 milioni di abitanti l'europa 500 milioni adesso esattamente non mi ricordo stiamo parlando quasi di un miliardo di persone trovano sempre questi episodi ovviamente sempre utili a mettere il pazzo all'interno del del pensiero di coloro che in un modo o nell'altro ritengono eccessivo tutto il contenimento l'utilizzo di mascherina eccetera perché non succede invece come abbiamo visto in altre situazioni però ovviamente non ribattute dai giornali in questo modo che la persona impaurita dal virus trova vede una persona con la mascherina abbassata e scatena all'inferno no quelle cose lì non ve le raccontano non ce le raccontano allora è una violentissima manipolazione dei fatti perché in realtà se notate poiché le persone sono stressate stanno male e stavano male anche prima del virus è facile che trovi all'interno di questi di queste categorie demenziali sia per quanto riguarda i non mask che i viva mask pensate anche quello non è che sia un bel complimento si mask yes mask è facile trovare qualche sballato è il tragico della tragica cronaca di ieri mi pare o l'altro ieri di un folle che ha sparato a dei bambini per fortuna che non gridava toglietevi la mascherina se no ci avrebbero impalati tutti cioè prendono le persone con dei disturbi mentali e non le analizzano per la loro follia una persona che toglie un occhio al commesso le utilizzano per denigrare una categoria che non esiste oltretutto perché il tema della mascherina ad esempio è complessissimo avrebbe tutta un'articolazione che a mio avviso potrebbe essere declinata in maniera molto intelligente in un dibattito scientifico aperto ho ascoltato degli scienziati dei virologi dei medici che sollevavano un'infinità di dubbi alcuni che la ritenevano utile in certe situazioni quando il virus magari era con una carica virale una forza maggiore no vedete torno e chiudo qui perché vi ho fatto di nuovo questa questo due palle su questi temi perché a mio avviso non è un caso cioè non è che la forza dell'informazione del giornalismo si è schierata casualmente in questo modo e adesso casualmente crea tutta una serie di contraddizioni fortissime che lasciano le persone in un disagio cognitivo veramente in un caos cognitivo si vede il risultato paura paura dei cittadini io ho paura del mio vicino il mio vicino non sa se io ho rabbia perché tiene la mascherina alzata abbassata hanno costruito una ragnatela emotiva psichica micidiale e sto così proprio a disagio nausea a vedere che in realtà ormai hanno raggiunto non ci torni più indietro da questa cosa non ci torni più indietro qualcuno può essere un po più sereno infatti oggi volevo fare un video sulla gestione della rabbia sul rasserenarsi continuando comunque ad informare a cercare di fare quello che è possibile ma a cuor leggero lo farò domani forse questi giorni ho veramente un caos anch'io di cose sto facendo il possibile per tenere il passo di un video al giorno che toglie il virus di torno però non c'è altro non c'è altro che lavorare sulla gestione della rabbia rimanere centrati e fare del nostro meglio a livello umano e lavorativo economico perché più perdiamo energia più ci scontriamo gli uni con gli altri e più abbiamo un decadimento anche nelle capacità proprio cognitive economiche funzionali questo dobbiamo fare perché ormai hanno generato una forza vi avevo già fatto questo esempio che vale anche in generale per i condizionamenti di ogni tipo mentali quando tu inserisci una forza di condizionamento è come aver preso una bicicletta senza freni aver pedalato velocissimo loro ti hanno dato la spinta e tu ti sei lasciato manipolare condizionare questa spinta tu non hai i freni adesso noi abbiamo milioni di persone che non si possono più arrestare in un secondo e uscire da questa bolla sono cariche di rabbia sia i yes mask yes man mask sia i no mask e loro questa tensione sociale l'hanno realizzata e questa distorsione distrazione sociale altissima non puoi parlare di cure alternative alcuni le fanno alcuni sanno che dovessero ammalarsi devono cercare quei medici che offrono cure alternative ma il sistema nella sua globalità nella sua totalità non riesce più a prendere una strada distensiva e risolutiva ma certo perché l'hanno caricato sapendo che potevano caricarlo perché c'era uno spazio molto ampio di inconsapevolezza e pertanto possibilità di condizionare e adesso il risultato è fatto basta sparare adesso un po' di informazioni caotiche questo riguarda anche queste informazioni che sembrano andare in un certo senso contro la campagna vaccinale cioè dicono che uno fa male l'altro fa meglio eccetera e lo so più di qualcuno ha detto ma forse si sta un po' rompendo questo muro questa specie di muro di gomma dove non si può parlare nemmeno un secondo degli eventuali danni che può causare la peretta ma non lo so il muro ormai si può anche far crepe eccetera la carica di confusione e disagio disarticolazione è stata generata in una maniera incredibile adesso possono dire tutto il contrario di quello che hanno detto il risultato è lo stesso perché le persone sono ipnotizzate sono ipnotizzate, non riescono a pensare al loro futuro a progettare l'economia, il recovery fund e tutte queste cose la gente non sa neanche che cosa siano se le sono dimenticate perché noto che siamo in 5 cioè prendo 30 persone e chiedo cosa ne pensi degli investimenti della direzione che hanno scelto per investire i soldi del recovery fund che cos'è il recovery fund? che direzione? c'è il virus, la sanità è peccato che ad esempio la sanità per niente è uno degli elementi con meno investimento cioè qua siamo stati investiti praticamente, tirati sotto quindi non lo so, mi viene in mente De Mello la vita è quella cosa che accade mentre sei intento a fare altri progetti questa era nella versione positiva quando la persona è intenta a rincorrere i propri sogni ma la vita è più ampia e accadono cose diverse qui noi oggi potremmo usare, potremmo cambiare semantica potremmo dire che la vita è quella cosa che accade la vita è quella cosa no, non è la vita la fregatura è quella cosa che accade mentre loro sono intenti a farti vedere altre cose più o meno quindi capite quanto siamo lontani dalla libertà, dalla possibilità di osservare le cose vero è che anche tutta questa situazione di condizionamento e di confusione alla fine è un processo della totalità del tutto che si realizza e pertanto questa carica produrrà i suoi frutti questa carica di condizionamento, di manipolazione produrrà i suoi frutti e saranno dei frutti diametralmente opposti perché ci sarà una risposta, una reazione è sempre stato per quanto sembrino dei genietti dell'ingegneria sociale alla fine scivolano sempre nel delirio egoico nel sogno di farsi più grandi di Dio e dimenticando Dio oltretutto si nota che questa società ha un disprezzo per il divino il tutto, ciò che è più grande di noi ed ecco l'uomo che è l'oltreuomo ma non in senso niciano che quasi quasi era anche positivo in senso proprio demenziale scientologico moderno la scienza mi permette di dominare tutto e una volta selvaggiamente distruggevamo la natura adesso ci facciamo paladini della natura in un sistema piuttosto viziato e fasullo però se pensate è un'altra follia incredibile avete sentito addirittura le proposte di spargere sostanze nell'atmosfera per abbassare la temperatura terrestre sarebbe bello è facile sbagliare di un millesimo il progetto di un millesimo perché pensano di conoscere tutta la complessità del sistema ma non si può conoscere a mio avviso la complessità di un sistema che è infinito tu devi muoverti all'unisono con l'infinito e sentirti parte dell'infinito adesso si è rovesciata la cosa una volta eravamo dominatori arroganti perché il creato era gestione nostra diciamo anche in una visione in una lettura distorta del cristianesimo ma non del cristianesimo dei Vangeli soprattutto dell'Antico Testamento adesso non siamo cambiati siamo idioti uguali a prima però ci siamo fatti garanti protettori del sistema natura e quindi cerchiamo di secondo le nostre regole di aggiustarlo invece di aggiustare noi stessi e di trovare armonia cambiando oltretutto cambiando tecnologie smettendo di investire in armamenti no andiamo a a controllare il sistema convinti ora di essere a favore a tutela del sistema natura del sistema mondo ad esempio intervenendo violentemente su miliardi di persone che devono essere rieducati in un certo senso peccato che miliardi di persone non si sono accorti anche il nostro Berghie fanno parte del sistema natura fanno parte dell'equilibrio se aumenta la sofferenza di miliardi di persone il sistema inizia ad entrare in ebollizione perché è parte della natura la coscienza umana non so di cosa potrebbe essere parte quindi è curioso vedere tutto tutto ciò rassereniamoci cerchiamo di attraversare di vincere la rabbia fluendo nel sistema c'è scritto nei Vangeli per chi è cristiano c'è scritto nel Dammapada c'è scritto nel buon senso della psicologia moderna affidarsi ad un qualcosa che è immensamente più grande di noi cercando di fare il nostro meglio cercando anche di essere netti lucidi rifiutare le cose che devono essere rifiutate denunciare ciò che va denunciato ma con un senso non di inquietudine perché io devo agire perché io mio Dio devo risolvere questa cosa sarebbe scivolare nuovamente nel trip egoico lasciate stare fate quello che potete e pensate che avete solo messo una gocciolina d'acqua in un oceano immenso che è l'esistenza che è il divino questa esistenza è divina e quando una parte va fuori asse va fuori equilibrio boom viene rimessa in asse dopo qualcuno mi potrà dire è certo ma io temo già sto subendo questo squilibrio e temo il ritorno il rinculo del colpo quando verrà rimesso un certo equilibrio o quando i danni di questo squilibrio si vedranno in tutto il loro in tutto si vedranno gli effetti sì è vero in un certo senso a chi ho questa preoccupazione però proprio perché ho un senso di fiducia nell'esistenza se rimaniamo centrati non aderiamo alla rabbia alla violenza al dolore alla paura ma portiamo centratura luce divino da dev vuol dire semplicemente essere luminosi dio è ciò che è luminoso come come sostanza come sostrato di tutto ciò che è manifesto che può essere oscuro e anche in un certo senso colorato ma non è luminoso le cose manifeste non sono proprio per la loro modificazione per essere esposte al gioco dei contrari non sono l'essenza la luce come essenza il divino questo rappresenta quella luce che non può spegnersi quella consapevolezza quell'amorevolezza che non si può spegnere se noi rimaniamo accanto al divino se ci facciamo sempre più simili a questa dimensione luminosa in un certo senso attraverseremo il diluvio avremo la nostra arca la nostra barchetta e sapremo danzare attraverso protetti anche da un appartenere all'equilibrio sapremo surfare come ho detto molte volte forse nella vita passata ero un surfista non so perché mi viene sempre qua in pianura padana dove vado a surfare nel bacchiglione però riusciremo a surfare anche le onde anomale ecco quindi state sereni se vi sentite no mask non vi daranno dieci anni di galera per il momento salvo che non vogliate rincorrere qualcuno massacrarlo di botte togliergli un occhio sputarli addosso e dirgli che è malato se voi siete malati pure lui deve morire malato questo ha fatto un tizio nell'Iowa definito no mask e non folle psichiatrico benvenuti nella follia del 2021 vi mando un carissimo abbraccio brosters e sortelli a seconda di quel che preferite vi ricordo che il vostro sostegno è fondamentale a fine video i dati per un abbonamento attraverso paypal o una donazione una tantum anche un euro fa la differenza ci vediamo al prossimo video un carissimo abbraccio a tutti ciao